Il cartello dell'antiastore, un aristocratico pubblico, è davanti a un signor Messier, un cardenale Cornano. Mi sono qui, a Chiloga, perché mi hanno mandato a dire le sue razioni i vilani, i contadini dei territori di Paja, che hanno servito a me, proprio come prologatore buon parlante, per prendermi a dire le sue razioni e per darvi un consenso di quei spazionanti di gran paretto, che tutte le femmine andranno piene e in gravidà. Perché, a voi vedermi, non che saranno quattro uomini per ogni femmina, a voi vedermi, se il primo nato, arriva il secondo paretto, io voglio dire che tanto è sua, vaga in razza, vaga da portarete, voi le contenta, senti che cria, che piacere. Vai, le andavano, non le attacchie, non le imprigni, vai con il secondo, arriva il terzo mario, sotto le quattro, fuori le pime, parte, parte, fuori le cose, anche il canto che avorghegna, con la luna, con chene, vai con il ciappa, e se la luna li attacca, non li attacca, non le imprigni, vai con il quarto, e vai, e piche, ciò che piche, fanno la danza, pensa e pica, vai con il latino, vai con le gare, piche, te fa, non te fa, c'ha mai il purà. E tutte le femmine andranno in piedi e in gravidare, e si adempina infine la lese del nostro signor Gesù Cristo che dice, «Cresì e smoltipliché», e sicuro non c'erò mai più paura per i turchi che li imparano, e lo auguro a voi, che in poco di tempo esaressero in tanti, ma tanti cristiani, che poi mi arrivano sti turchi, allora se ne trovavano altro che cristiani e sieno, e allora che fregheremmo noi altri nelle sue nati? A partire della colonna del San Marco, con tutto il fusto, col capitero, con leon col libro, e le ali spalancà, che al fa un male, non potreste fare mai una lese simbela e santa, una lese che la farà esorire in todo mondo, lese che sarai civile e teologica. Provendo a pensare, e fena sta bella lese, e vi assicuro lo stesso, che non vi sarà mai più porton sprangò per voi, in pareggio. E se anche andaria all'inferno, avere trovari tante di quelle anime riconoscenti che le fa l'applaudismento da inciuchir tutti i demoni, e su trove porterà sul trionfo, sulla carrega più alta dello sgardenale, lo sgardenale dell'inferno. Amen. Grazie. Grazie.